Buongiorno ragazzi e ragazze che seguite il mio canale oggi sono qui con questa voce sintetica per provare un programma online che permette di mostrare un volto artificiale e una voce sintetica per potervi parlare di una piccola novità. Come avrete notato la programmazione estiva è entrata in atto per cui i video che porterò saranno a giorni alterni per permettermi di passare un'estate tranquilla inoltre vi vorrei sottoporre una mia idea. Vorrei sospendere fino a settembre la serie giungla di Minecraft ma nello stesso tempo iniziarne un'altra in cui sarete voi a suggerirmi alcuni elementi quali il seme del mondo, mod, oppure datapack, da usare ed infine la texture. Pack. Vorrei che scrivesse dei commenti sotto questo video in modo da dirmi questi elementi. Di gioco io inizierò una modalità estrema in cui userò esclusivamente le cose che vi ho chiesto, ricordando ad ogni video il nickname di chi avrà vinto diciamo questo contest. Per cui spero parteciperete in tanti e che con i vostri consigli potrò vivere un mondo in estrema, divertente e difficile, quindi a voi. La penna. Scrivete un commento. In cui scrivere, tra apici, il seme del mondo, e tra parentesi, mod, data, pack, e texture, pack, sceglierò, quelle con maggiori, like, oppure la sorteggerò, a caso tra quelle presenti. Grazie, della cortese attenzione. Il vostro. Paradosso. PS messaggio per nonno frac, grazie per tutti i tuoi messaggi e like per una volta volevo dirtelo a voce.